Il trofeo carne e mountain bike è giunto alla terza prova domenica 12 giugno ed è una prova particolare e speciale perché è una novità, vero Roberto Giazzun? Sì, un bellissimo esordio, siamo molto contenti che sia uscito fuori questo percorso che devo dire è veramente bello, entusiasmante, merita anche solo come gita per chi non ha vellità agonistiche, merita insomma il viaggio fino a Rigolato perché è molto divertente. Le salite nella prima parte sono degli strappi un po' duri ma tutto sommato brevi, le discese sono molto belle su sentiero quasi tutte, divertenti veramente e l'ultima salita se vedete l'altimetria sul nostro sito non c'è niente di cui aver paura perché sale veramente dolce con due tratti in leggera discesa. Distanza bella tosta no? Allora hanno Mattia Dodorico che è insomma il factotum, la mente che ha voluto inserire questa gara nel trofeo ha scelto un percorso su giro unico, una piccola medio fondo, sono 23 km il dislivello è circa 1000 metri, il grosso si fa nell'ultima salita il resto è più nervoso. Mi raccomando i sentieri sono abbastanza tecnici insomma ve lo dico già con anticipo la gara si vince in salita e la discesa è fatta solo per divertirsi. Senti dopo le prime due prove mi sembra che l'organizzazione può essere più che soddisfatta vero? Sì sì allora le prime due prove facevano parte oltre che del trofeo anche del trofeo Axi primaverile diciamo il trofeo Kospalat. Invece questa qua di Rigolato è l'esordio nel trofeo estivo che è sponsorizzato da Zanette e quindi ci aspettiamo comunque un bel numero di concorrenti vediamo se continuiamo il trend di 130 come abbiamo avuto nei primi due appuntamenti. Gli orari la partenza è sempre alle 10 quindi ci vediamo a Piani di Vass dalle 8 e mezza in poi per le iscrizioni. Piani di Vass si raggiunge da Rigolato salendo verso Ludaria e poi proseguendo dritti si arriva in questa bellissima conca con dei pascoli sotto il rifugio Chiampizzulon dove c'è possibilità di parcheggio e sarà allestito anche il tendone per il pre e il dopogara.